Festa doveva essere e festa è stata, dopo diversi anni, ha riaperto i battenti ad Isola di Caporizzuto, la villa comunale. Per l'occasione è stato pure inaugurato il nuovo parco giochi, riapertura possibile grazie ad alcuni lavori eseguiti con un finanziamento attinente il PON e all'impegno di alcune associazioni. Finalmente riapriamo questo spazio verde e lo restituiamo ai cittadini. Questo dovrà diventare uno spazio aggregativo dove le famiglie, i giovani, i bambini potranno passare allegramente qualche ora spensierati. C'è tanta gente che si è data da fare per ripulire quest'area. Ci sono stati degli interventi che noi abbiamo effettuato attraverso un finanziamento, però ci sono stati anche i cittadini che si sono dati da fare e soprattutto le associazioni. Quindi l'associazione del corpo forestale Giapix. Posso definirla ospite d'onore? Immagino di sì per la storia, non per meriti personali ovviamente, però la villa e la sede del municipio, che erano di proprietà a Barracco, sono state donate da papà. Quindi immagino negli anni Sessanta, quando era sindaco, il senatore Poerio, con cui c'era stato grosso dibattimento legato alle sue convinzioni sul latifondo. E quindi era un uomo comunque, credo che molto rispettato da mio padre, che ha deciso di donare al comune una sorta di restituzione per tutto quello che era venuto da qua. La manifestazione ha registrato la partecipazione di centinaia di bambini delle scuole locali, ma anche diversi momenti artistici. E poi ci sono i burattini dello storico teatro dei Fratelli Ferraiolo, una tradizione consolidata nel tema. Sì, io la prima volta che vengo qui ad Isola sono stato invitato dall'amministrazione e a dire la verità è una cosa piacevole. Comunque diamo un momento di allegria a questi ragazzi, ne hanno bisogno. Inaugurazione della villa comunale di Isola Caporizzuto, un momento per regalare un sorriso ai tanti bambini di questa bella comunità. Assolutamente, siamo qui proprio col sindaco e ringrazio l'amministrazione comunale che ha accolto e ha sostenuto tutto l'iter del concerto teatrale del primo maggio. Siamo qui proprio perché il primo evento che il sindaco ha voluto è stato proprio questo dei Fratelli Ferraiolo, perché abbiamo un dovere verso i confronti di questi bambini che in questi due anni sicuramente sono quelli che ne hanno subito di più delle conseguenze.